Sempre, io gioco al calcio, sempre. Mi piace troppo perché il calcio ti danno un sacco di relazioni. Il mio cuore è di battere sempre. Mi chiamo Abdallah Dembele. Ho 27 anni e vengo dal Mali. Sono arrivato in Italia nel 2011. Io sono andatore della squadra di Mali. Ho creato la squadra di Mali nel 2015. Quindi voglio fare una squadra per giocare al Ballon Mondiale. Ci sono tutte le nazionalità. Ghana, Costa d'Avorio, Lucchina Faso, Senegal e tante altre squadre. Io voglio presentare la nostra bandiera a Torino, Ballon Mondiale. Anche noi andiamo avanti, ma presentiamo la nostra bandiera a Torino. I miei giocatori sono tutti rifugiati. Tutti abitano nel centro d'accoglienza, ma alcuni a Torino, alcuni a fuori Torino. Oggi siamo pochi, facciamo cinque giri sul campo. Andiamo ragazzi? Solo metà, facciamo solo metà. Solo metà? Sì, solo metà. Allora ho imparato tante cose di allenamento. In puntualità, alle 18-30, dove essere tutti davanti alla porta. Siamo in diversi paesi. Se io parlo con voi, per sempre allenamento, parlo la nostra lingua, non si impara. Perché quando arrivo all'Europa, l'unica cosa che devo fare prima è la lingua. Blu, andate di là. Gianni, di là. Io non lavoro sabato e domenica. Vado a trovare ragazzi per dire un consiglio. Perché stare così senza muovere, troppo pensare, quindi non va bene. Potete muovere un po', andate a scuola. Se non parli italiano, quindi non è facile. Per trovare lavoro, è difficile. Il futuro non lo so ancora, ma in questo momento l'Italia, non va da nessuna parte. Non lo so ancora, ma in questo momento all'Italia, non è facile. Per trovare la lingua. Non lo so ancora, ma in questo momento l'Italia. Lo so ancora, ma in questo momento il risponde fosse visto. La lingua del務ari è un darato, ma in questo momento lo so ancora. È un problema. Sino, ma in questo momento l'Italia. Grazie a tutti.